buongiorno ragazze buongiorno tutte e tutti nuovo video blog parla che che riccio come state spero bene e dunque sono ancora un po con la stappato ma non molto ho dormito piuttosto bene ieri sera e niente tra poco lavo il piatto e il sistema mio letto ok anzi prima il sistema mio letto se faccio un tempo a fare il letto e poi lavo i piatti non sono pochi ma vabbè ve ne sono un po ok dai ci vediamo dopo ok ciao Grazie per aver guardato il video. 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 Grazie a tutti. Grazie per aver guardato il video. Grazie a tutti. Grazie a tutti.